E allora, dallo studio 2, le fonti tv pronti per il nostro Financial Forum, un'occasione per approfondire i temi del business, i temi della finanza e non soltanto una tavola rotonda in cui approfondiremo il tema, l'argomento che riguarda il ruolo, un ruolo importante all'interno del business per l'appunto, parliamo dello Chief Financial Officer che diventa, che si trasforma, che passa allo Chief Value Officer e coinvolgere il CFO nelle decisioni di business per sostenere la crescita dell'azienda. Partiremo da qui, partiremo da un biennio, quello del 2020-2021, che ha portato con sé grandi cambiamenti per il mondo della finanza, per l'economia globale, per i professionisti che operano al loro interno. La crisi innescata dalla pandemia ha determinato un contesto di scarsa liquidità finanziaria che ha reso fondamentale disporre di figure professionali in grado di aiutare a capire come sviluppare il proprio business aziendale. Una di queste figure è proprio rappresentata dallo Chief Financial Officer. Lo stesso è infatti stato fortemente coinvolto nella gestione dell'emergenza e non solo ha dovuto svolgere le consueti attività di amministrazione, redazione, bilancio e controllo di gestione. Ha anche dovuto assistere a un'evoluzione delle proprie responsabilità, vedendosi sempre più impegnato in funzioni strategiche, decisionali, che lo hanno reso interprete delle trasformazioni digitali, che è uno dei temi più forti che stiamo vivendo e che stiamo osservando. Questo ha portato a una trasformazione del CFO, come detto in apertura, in CVO. Sarebbe il Chief Value Officer, inteso come creatore di valore per il business, il cui apporto sarà essenziale nella nuova fase di spinta verso la ripresa. In questo nuovo scenario sarà necessario capire alcuni temi che vi elenco. Reingegnerizzare innanzitutto i processi sulla base dei cambiamenti nella modalità di lavoro e rendere resiliente, altra espressione diventata piuttosto comune in questo periodo, resiliente e agile l'organizzazione in una situazione di perdurante incertezza e complessità. Il secondo tema è identificare e valutare come, quando è utile e necessario investire in tecnologie emergenti in relazione al valore che queste possono produrre per l'azienda. Il terzo tema è individuare quali nuove competenze hard e soft servirà a introdurre nella funzione finance per valorizzare il suo ruolo strategico nei confronti di tutti gli stakeholder interni ed esterni. Infine, ma non per ordine importanza, portare a bordo gli investitori attraverso strategie in linea con i criteri ISG di sostenibilità. Nel corso di questa puntata e di questa tavola rotonda approfondiremo insieme ai nostri ospiti proprio le strategie che guideranno la crescita delle aziende nel futuro. E allora io do il benvenuto, oltre a ringraziarlo per essere qui con noi, a Marco Bariletti, Chief Financial Officer Linkem. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Rundè, Chief Financial Officer di Falke Renewables. Buongiorno a tutti. E un ringraziamento anche a Claudio Sanpietro, Pre-Sales Manager Sigma Com. Buongiorno e grazie per l'invito. E allora cominciamo una premessa lunga ma per certi versi necessaria per fotografare il contesto e per farvi capire di cosa stiamo per parlare. Io comincerei da lei Bariletti, Chief Financial Officer di Linkem e in questo le chiedo come è cambiato nell'ultimo anno il ruolo di CFO, quali sono le sue responsabilità anche rispetto al resto del top management aziendale e in che modo l'evoluzione di questa figura può portare valore all'azienda. Prego Bariletti. Il settore delle telecomunicazioni in questi ultimi due anni è stato attraversato da una serie di eventi assolutamente disruptive. Vedo due elementi in particolare. Primo l'elevato tasso di innovatività che spinge tutte le imprese ad investire in nuove tecnologie. Il secondo aspetto è un alto tasso di competitività soprattutto sui canali retail. Questi due fattori hanno spinto tutti a generare nuove idee, nuove idee che passano anche attraverso operazioni straordinarie per cercare appunto di creare valore e quindi contribuire a creare valore che significa essere al centro, partecipare a tutti questi approfondimenti. Tutte le aziende del settore stanno cercando di vedere come effettuare scorpori, acquisizioni, joint ventures, quindi è un fenomeno abbastanza trasversale. Il CFO può aiutare molto con la sua visione a 360 gradi sui numeri dell'azienda, perché se vogliamo all'interno dell'azienda la persona che più di tutti conosce le variabili economico, finanziarie e patrimoniali e quindi può sviluppare un certo network con i colleghi che magari sono più portatori di aree specifiche. Io distingo sempre l'azienda in due aree, c'è l'area di chi è impegnato a investire, quindi a spendere le risorse e c'è l'area di chi è impegnato a guadagnare e quindi a fare in modo che dopo gli investimenti e i costi ci si chiamano anche le risorse. Mettere insieme le due componenti e fare in modo che si arrivi ad una sintesi per fare le scelte migliori in ogni momento nell'interesse dell'azienda è veramente complicato. Bisogna di fronte a tutte le sfide capire qual è la giusta ponderazione tra il rischio e l'opportunità da cogliere, quale sarà alla fine il risultato effettivo di un progetto, perché cercare di capire prima ex ante le possibilità di successo di un progetto avendolo analizzato a fondo è quella che credo sia la vera sfida, quanto più la capacità progettuale è elevata, tanto più si riducono i rischi di insuccesso. Sicuramente abbiamo messo già sul tavolo i primi temi, le prime riflessioni, le prime parole chiave, le keyword su cui tra poco torniamo. Intanto grazie a Bariletti, tra poco torno da lei. Adesso vorrei andare da Paolo Rundedu, Chief Financial Officer di Falk Renewables, domanda che poi giro anche a lei Bariletti. La domanda è quali competenze è necessario che il CFO e il suo team sviluppino per garantire una strategia di business vincente che poi è il punto finale del ragionamento che ci ha proposto Bariletti. Rundedu, prego. Sì, innanzitutto inizio dalla parte finale della sua domanda. Qual è un business vincente e qual è un team vincente? Un business vincente è un business che riesce a replicarsi in mercati diversi, in contesti diversi, con lo stesso successo. Un team vincente è un team composto da competenze trasversali diverse che sa affrontare, come avevo detto di mercati, situazioni diverse e a volte anche inaspettate. Detto questo, alle tradizionali competenze del CFO, cioè amministrazione, finanza, controllo, tax, secondo me è importante aggiungere quattro competenze strategiche, che sono anche degli obiettivi di competenza per il CFO. Il primo è pensare il nuovo, il secondo è intuire ciò che si rivelerà esatto, il terzo è cogliere l'essenziale e il quarto è agire tempestivamente. Facciamo un esempio, pensare il nuovo. Cosa significa? Significa per il CFO fare le cose diversamente rispetto al passato o fare cose nuove. Nel caso della mia esperienza in Falker e Newbos, 23 settembre 2020, primo bond convertibile green in Italia mai emesso. Oppure abbiamo appena lanciato in Sicilia un crowfunding per finanziare da parte comunità locali il parco che stiamo costruendo, un parco solare. Intuire ciò che si rivelerà esatto, evitare di focalizzarsi su cose che non creano valore. Cogliere l'essenziale. Come diceva prima il mio collega, l'importante è saper capire l'impatto delle decisioni aziendali sui numeri presenti e futuri. E chi meglio del CFO in questo caso? Agire tempestivamente. Il CFO deve essere un co-leader insieme al direttore dell'Information Technology per sviluppare sistemi informativi che permettono di avere informazioni tempestive per agire tempestivamente. Perfetto, la stessa domanda la giro anche a lei Bariletti, Rundedu ci ha fornito anche uno spunto su come effettivamente ci si può muovere facendo esempio giustamente sulla propria realtà, quella di Falk Renewables. E allora insomma rimango sulla stessa domanda, quindi insomma quali sono le competenze necessarie che il CFO e il team possano sviluppare per garantire una strategia di business vincente? Io credo che la cosa più importante sia quella di guardare sempre fuori dalla finestra. Non essere concentrati solo su quello che si fa all'interno dell'azienda, ma vedere come si sta muovendo il mondo nel frattempo, quindi il mondo più vicino, il proprio settore, i competitor più importanti. Da lì possono venire fuori tanti spunti, tante idee e l'obiettivo guardando un po' come si muove il contesto generale è generare appunto idee disruptive, idee che possono magari fare la differenza nella creazione di valore. Io penso che le operazioni straordinarie sono e saranno sempre più in voga e quindi per pensarle prima degli altri bisogna vedere un attimo, di capire, di cogliere prima certi trend. Il CFO e i suoi colleghi devono cercare quindi di acquisire nuove competenze nell'originare questo tipo di operazioni e anche nel gestirle, i cosiddetti execution skills, quindi essere in grado di gestire dall'A alla Z operazioni straordinarie che sono sempre più variegate. E a fianco a queste ci sono le sfide del capital raising, perché non solo le operazioni straordinarie sono accompagnate da sfide di capital raising, ma poi nella storia e nella vita di un'azienda spesso ci sono finanziamenti, rifinanziamenti, secondo strutture sempre più complesse, strutture private, originariamente c'erano strutture più di carattere tra virgolette privato, ora ci sono molte operazioni di carattere pubblico, bisogna essere bravi nel cogliere le tendenze, nel vedere cosa succede anche sui mercati finanziari e alla fine sostenere i programmi di sviluppo minimizzando il costo complessivo della capital straccia. In apertura ho fatto cenno ovviamente anche alle tecnologie che inevitabilmente devono svilupparsi e devono implementarsi, lo ha fatto anche Bariletti nel suo intervento e Rondeddu ha focalizzato anche quali possono essere gli esempi più pratici quando una tecnologia viene messa al servizio della crescita di un'azienda. Di tecnologia parliamo adesso con Claudio Sanpietro, pre-sales manager Sigma Conso e la domanda è proprio questa, su quali tecnologie emergenti dovranno investire CFO per garantire il futuro del business e ovviamente minimizzare anche i rischi? Sì, a questo proposito vorrei fare una premessa. Negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, le imprese da questo punto di vista hanno fatto grandi passi avanti dal punto di vista tecnologico. Il problema è che quello che troviamo oggi è che sempre più vediamo flussi informativi al servizio della Team Finance estremamente disgregati, troviamo soluzioni applicative basate su tecnologie completamente diverse che non hanno una predisposizione per l'integrazione tra di loro. Quindi un primo punto importantissimo su cui bisogna fare una particolare attenzione è quella dell'integrazione dei vari strumenti tecnologici che sono a servizio del Team Finance e soprattutto anche poi all'automazione dei processi di integrazione. Proprio il valore aggiunto che viene predisposto per il CFO è che il minor tempo da dedicare alla gestione proprio dei flussi informativi si traduce poi in un forte valore aggiunto. Un secondo tema che diciamo in molti campi applicativi non è più un tema emergente ma vediamo che nell'ambito finance è ancora un tema abbastanza emergente è quello della transizione al cloud. Quello che abbiamo visto soprattutto in questi due anni pandemici che c'è sempre più la necessità di andare a decentralizzare il flusso di lavoro a questo punto la transizione al cloud è un argomento molto molto importante. Più che mai caldo. Assolutamente. Un punto importante è che oggi esistono degli strumenti applicativi nativi per il cloud quindi non parliamo più di strumenti applicativi che vengono riadattati per essere fruiti in cloud ma sono strumenti nativi ideati proprio per poter decentralizzare i processi e garantire la continuità operativa del team. Come dire non è più un optional come nelle macchine ma è già di serie. Esatto esattamente appunto questo. Un terzo tema che è molto più di frontiera e delle volte parlando con il CFO vedo sempre delle facce un pochettino diciamo dubbiose su questo tema però noi degli adattati lavori ci teniamo sempre a parlare di questo tema è quello dell'intelligenza artificiale. Sentiamo molto spesso questo tema però quello che in passato ci siamo chiesti è come l'intelligenza artificiale può essere adattata al servizio del CFO quindi per creare valore. Ci sono tante idee, tante soluzioni applicative che sono state sviluppate a questo proposito un esempio può essere quella della minimizzazione dei rischi. Abbiamo parlato prima di questo tema, una cosa diciamo l'intelligenza artificiale è a proprio agio quando deve lavorare con un grande volume di dati a questo proposito esistono soluzioni applicative che vanno a rilevare eventuali anomalie all'interno dei flussi finanziari e questa è la macchina che lo fa il lavoro per il posto del team finance. Un altro esempio su cui c'è stata data particolare attenzione negli anni passati è quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per poter andare attraverso l'individuazione dei vari variabili di business andare a definire quelli che sono eventuali algoritmi a servizio della pianificazione finanziaria e del forecasting. Però a questo proposito mi sento anche di dare una piccola critica su questo aspetto perché quello che la pandemia ha evidenziato è che algoritmi che sono stati sviluppati negli anni passati con tanta sapienza, con tanta peculiarità sono stati completamente disattesi da un evento che nessuna macchina poteva prevedere. Quindi una tecnologia che è molto importante al servizio SFO però va presa con la giusta cautela. Sì, cautela forte nei confronti dell'algoritmo in generale, questo l'abbiamo osservato e mi permetto di aprire questa piccola parentesi anche nel mondo dell'informazione perché oggi è l'algoritmo che comanda più o meno i motori di ricerca quando si cerca un determinato contenuto e non per forza si arriva a trovare magari le informazioni giuste in base a quanto il motore di ricerca offre perché poi l'algoritmo si può anche in qualche modo ingannare, si può quantomeno aggirarlo e alla fine magari la notizia vera, la notizia che non sia una fake news arriva dopo quella che si presume possa, quella che invece può rivelarsi effettivamente la cosiddetta bufala oramai diventata parte del nostro linguaggio. Beh, grazie Claudio perché i temi che hai messo sono tanti, sono interessanti prima hai anche provato a, insomma, hai spiegato come a volte ti trovi davanti a dei dubbi che vengono fuori da parte dei SFO sull'intelligenza artificiale poi magari chiediamo anche ai nostri ospiti cosa ne pensano però io ho un'altra domanda per lei e la domanda è uno dei primi temi che hai tirato fuori cioè la comunicazione in questo senso strutturare una corretta comunicazione finanziaria per evidenziare la centralità del ruolo del finance nei confronti di tutti gli stakeholder, ecco, interni ed esterni come fare, come strutturare questa corretta comunicazione finanziaria? Sì, il primo punto importante è che l'organizzazione deve prendere come prima cosa coscienza dei propri processi finanziari attualmente in essere quindi deve fare proprio un esercizio di auditing interno per capire a che punto è a livello di maturità dei processi su questa base poi bisogna sviluppare quello che è un piano di crescita di evoluzione dei processi informativi nell'ambito finanziario che abbia proprio come obiettivo finale quello di non delegare i processi informativi nell'ambito finanziario solamente a dei processi di compliance, di pura compliance ma processi agili al servizio del valore aggiunto per il CFO solitamente l'esercizio che viene fatto è quello di un'impostazione di un processo di evoluzione a 3-5 anni sulla base del proprio livello di maturità del processo una volta poi raggiunto questo processo di maturità vengono dettate le basi, quelli che sono i pilastri della comunicazione finanziaria quindi una comunicazione finanziaria definita, integrata e soprattutto supportata da quelli che sono gli strumenti tecnologici che aiutano nella fruizione della comunicazione finanziaria che poi sono alcuni degli strumenti che abbiamo visto nella riflessione nell'intervento precedente ero curioso, mi permetto di uscire un attimo dalla pista che abbiamo in qualche modo segnato per chiedere magari a lei Bariletti se effettivamente c'è questo dubbio questa cautela, chiamiamola così da parte dei CFO quando si parla di intelligenza artificiale anche magari in virtù dell'esperienza che avete in azienda che avete nella vostra compagnia ma c'è sicuramente una certa cautela trattandosi di un contesto completamente nuovo e quindi di attività in evoluzione se completamente ha un qualcosa di artificiale per quanto intelligente esattamente, poi ognuno di noi ha la sua visione su questo e quindi c'è chi magari è più aperto e chi meno rispetto al delegare, a delle macchine attività anche complesse e delicate siamo lontani da raggiungere un grado di maturazione per poter vedere quale potrà essere il punto di equilibrio spero che sia un punto di equilibrio in cui l'uomo ancora riesca a fare adeguatamente la sua parte mi permetto di dire questo una parte integrata diciamo così e che non va a sostituire perché poi se guardiamo anche le varie spot in televisione o comunque questi filmati di avanguardia vediamo ad esempio il medico che opera in remoto vediamo insomma questi personaggi che muovono con le mani insomma schermi virtuali che sembra quasi di stare all'interno di un film di fantascienza poi ovviamente non stiamo parlando di fantascienza in questo caso però è anche vero che muovere e studiare un'ampia abbondanza di dati che poi in sua maestà il dato è sempre importante se non fondamentale per il CFO è quanto meno diventa quanto meno sempre più necessario qualcosa uno strumento che ti permette di analizzare in tempi brevi per prendere poi le migliori decisioni risparmiando quel tempo che lei appunto San Pietro ci ricordava e per creare valore che poi più o meno il punto di partenza da cui siamo, con cui insomma abbiamo iniziato la nostra conversazione vorrei tornare da Paolo Rundeddu Chief Financial Officer Falk Renewables la domanda è quale ruolo avranno i criteri di sostenibilità che peraltro c'è già in qualche modo accennato nella riflessione precedente nelle decisioni strategiche volte alla crescita del business si, i criteri di sostenibilità hanno il ruolo di fidelizzare gli stakeholder quindi per noi sono clienti, le comunità locali, i fornitori, gli investitori, i finanziatori, le autorità è chiaro che l'applicazione dei criteri di sostenibilità permette di attrarre gli investitori che sono sensibili a questi temi ESG che stanno diventando sempre di più bisogna però passare dalla semplice dichiarazione dei criteri di sostenibilità all'applicazione, cioè al fare sempre tornando agli esempi concreti come diceva lei non è più un optional ma deve essere di serie e noi come Falk Renewables già nel 2005 settembre 23 settembre 2005 abbiamo fatto il primo Royalty Agreement con una comunità locale cioè permettevamo alle comunità locali dove noi costruivamo gli impianti eolici in Scozia di investire direttamente nell'impianto o comprando una turbina virtuale o tramite un presto obbligazionario esclusivo per la comunità oppure quello che stiamo facendo detto prima sul crowdfunding Sicilia cioè i criteri di sostenibilità e la loro applicazione sono una rivoluzione culturale porterà una rivoluzione anche tecnologica e generalmente tutte le rivoluzioni sono percepite dagli uomini secondo questi due elementi, il primo sovrastimano la velocità con cui avverranno i cambiamenti il secondo sottostimano l'impatto con cui avverranno i cambiamenti ecco, quello che voglio dire è che l'applicazione dei criteri di sostenibilità forse sarà un po' più lenta di quanto ci aspettiamo, velocità ma avrà un impatto di gran lunga superiore rispetto a quello che pensiamo perché andrà a modificare i nostri costumi Aggiungo anche a lei, rivolgo anche a lei la domanda peraltro vedevo poi San Pietro che annuiva eventualmente poi torno da te per le battute finali ma insomma sempre sulla questione intelligenza artificiale e eventuale cautela insomma concorda con quanto espresso da Bariletti Sì, assolutamente ricordo i quattro elementi che ho detto prima delle competenze SFO pensare nuovo, intuire ciò che si rivela esatto forse è un po' difficile per l'intelligenza artificiale magari agire tempestivamente, cogliere l'essenziale potrà essere replicato però non dimenticherei anche la parte romantica e sentimentale del SFO cioè l'amore, la passione per i progetti, per lo sviluppo, per il dato ecco, la macchina forse queste cose non riuscirà a replicarle io non dimenticherei questi aspetti diciamo intangibili, più soft della nostra professione anche perché anche e soprattutto per questo sarà importante integrare e non sostituire può sembrare banale ma insomma poi alla fine dei conti non lo è peraltro i vari esempi che ci ha fornito Rondeddu più o meno va incontro a poi quell'elenco delle tecnologie che ci ha espresso insomma in avvio dal cloud, dall'intelligenza artificiale quindi insomma più o meno tutto torna, ecco abbiamo chiuso il cerchio anche perché la vedevo annuire insomma durante l'intervento di Rondeddu Sì assolutamente, dobbiamo sempre ricordarci che le tecnologie sono a supporto delle persone quindi vanno ad elevare quelle che sono le competenze che il team finance in questo caso va a sviluppare la tecnologia serve solamente come facilitatore per poter diciamo aiutare nel flusso facilitare diciamo il flusso di lavoro del team finance Il flusso produttivo ci mancherebbe e allora io ringrazio i nostri ospiti insomma per averci raccontato e per aver approfondito questi temi in quello che è il nostro financial forum che andrà avanti anche con altri appuntamenti in presenza e non soltanto e allora grazie a Paolo Rondeddu, Chief Financial Officer di Falc Renewables e complimenti anche insomma per la performance dicevo anche offline in borsa grazie noi seguiamo ovviamente i mercati insomma Falc ha avuto un 2021 sicuramente interessante grazie a Marco Bariletti, Chief Financial Officer di Linkem grazie a voi anche di Linkem abbiamo parlato nelle nostre dirette di alcuni accordi interessanti proprio mirati insomma alle tecnologie cloud 5G con un'altra realtà tecnologica italiana e grazie anche a Claudio San Pietro, Pre Sales Manager Sigma Conso, molti dei insomma temi che hai messo sull'agenda sicuramente e sul tavolo li riprenderemo perché assolutamente interessanti grazie mille per avermi avuto e allora io vi invito a rimanere con noi qui sulle fonti tv grazie per averci seguito e alla prossima grazie mille per avermi avuto grazie mille per avermi avuto grazie mille per avermi avuto